La presidente di Fratelli d'Italia è tornata sulla spaccatura con gli alleati e sulla possibilità di correre da sola, chiederò garanzie e farò le mie valutazioni. Giorgia Meloni è pronta a correre da sola alle prossime elezioni? Questo lo vedremo. La presidente di Fratelli d'Italia è tornata a parlare della spaccatura nel centrodestra arrivata dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, appoggiata anche dalla Lega e da Forza Italia. Questa cosa non dipende solo da me, ha detto intervista non è l'arena sulla sette. Ma non farò più buon viso a cattivo gioco se non ho garanzie che chi è mio alleato voglia stare in questa metà campo. Meloni ha anche ammesso di non aver più sentito direttamente il segretario leghista Matteo Salvini, ma che chiederà garanzie sulla legge elettorale, se facessero il proporzionale sarebbe una vergogna. Riproporrò il patto antinciuccio per sapere prima chi sta nel mio campo. E sulla base di questo farò le mie valutazioni. In ogni caso, con i numeri di oggi, sarà impossibile fare a meno di noi per fare un governo. I problemi sono nati quando il nome forte della coalizione, Silvio Berlusconi, non ha trovato i nomi per vincere l'elezione al Colle e ha ritirato la candidatura. I voti che sono mancati in aula non erano quelli di FDI, quelli ci sono sempre stati, ha detto. Il centrodestra a un certo punto non ci ha creduto più. Il centrodestra a un certo punto non ci ha creduto più.